Non l'ho capito, scusa, quant'è che brioche che vorresti? E' vero, 5, 6, è vero. Poi la gente si chiede perché alcune persone vanno in rovina. Ecco, ma che si va in rovina. Da quando, da che mondo in mondo una persona ti mangia la confezione interna di brioche? E si fa le analisi, sono sempre belli, grazie di Dio. Una come me che si tiene, che cerca di mangiare sano e tutto colesterolici e tricicleridi, tutto di più. Uno al porco, due al porco, tre al porco, quattro ne sono, ecco, finito. Quarta al porco, quattro ne sono rimasse. Ecco. Una, due, tre, quattro. Ma poi, tutte queste brioche riesci a digerirle? È buono. Quando si va poi a cagare, tutte queste cose qua, quando poi le sporghe dal culo, lo scarico, lo sciacquone, si tira. Capito? Si tira. Non che ogni volta mi fa intossicare. Si tira lo sciacquone. Non che mi fa venire le traumatizzazioni. Va bene. Una volta che vado in bagno. Va bene. Non che mi fa venire. 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 Grazie.